Signore e signori buonasera ben ritrovati al nostro consueto appuntamento settimanale questo è il nostro secondo incontro come avevo detto la settimana scorsa sulle cosiddette false verità in alimentazione cioè dire frasi che vengono oramai sentite dappertutto e credute vere che in realtà non lo sono e io naturalmente vi propongo qualche esempio per esempio le banane sono ricchissime di potassio la banana ha un contenuto in potassio che se c'è bisogno di utilizzarlo è interessante però avocado kiwi e ribes ne contengono molto di più quindi se il problema fosse trovare un alimento ricco c'è ben altro rispetto alle banane banane peraltro hanno anche qualche altro difetto sulla glicemia attenzione alla banana nel diabetico piccola parentesi che non c'entra niente ma mi è venuto di dirla ancora l'ananas brucia i grassi e fa dimagrire ci sono tante che assumono queste compresse di ananas finalità perdere peso non è assolutamente vero allora l'ananas contiene la bromelina che è un antinfiumatorio piuttosto blando però che questo ananas bruci i grassi e di conseguenza ci faccia dimagrire o meglio non accumulare i grassi non è assolutamente vero eppure lo dicono tutti ancora la frutta va consumata lontano dai pasti la frutta va consumata quando vogliamo se poi fosse consumata lontano dai pasti o vicino ai pasti non cambia niente e sapete dove viene questa frase la frutta abitualmente noi la consumiamo alla fine del pasto primo secondo frutta eventualmente dolce c'è stato un certo periodo ed era un nutrizionista importante che diceva se prendete la frutta qualunque essa sia prima del pasto riducete il senso della fame e quindi riuscite a mangiare di meno ma questo è un altro discorso e di qui si è estrapolato questa cosa dicendo lontano dai pasti fa meglio perché fa dimagrire non è vero la frutta mangiamola quando vogliamo rispetto al pasti che non c'è nessun problema le patate se non consumate diventano tossiche ecco qui facciamo un'annotazione la patata una volta cotta naturalmente normalmente la mettiamo in frigo se le lasciamo in frigo troppo a lungo prima di consumarle ecco in questo caso è vero si possono formare dei batteri e quindi teoricamente potremmo assieme alla patata ingoiare anche batteri peraltro di scarsa rilevanza in senso clinico però questa cosa può essere vera ma solo se lasciate cotte in frigo a lungo un'altra cosa che è molto importante perché estremamente attuale mangiare cibi senza glutine è la cosa migliore purtroppo ci sono in giro anche medici pediatri e medici dell'adulto che consigliano di utilizzare cibi per celiaci i celiaci sono quelli intolleranti al glutine per capirci ripeto consumare questi cibi a prescindere dall'intolleranza questa è un'altra sciocchezza il cibo per celiaci è fondamentale nel malato di celiaci ma nella popolazione generale l'utilizzo del cibo per celiaci non è da osservare e su questo non c'è discussione tutto il pesce è pieno di mercurio non è vero però annotiamo che mi sembra giusto farlo che squalo pesce spada luccio tonno e nasello possono contenere delle quantità di mercurio però sapete in generale l'utilizzo di questi pesci che ho enunciato e modesto ciò non toglie che se per caso fosse un uso costante protratto il problema c'è il problema può esistere e quindi teniamone conto un altro ancora che ho trovato scritto recentemente la cipolla assorbe i microbi per l'amor di dio la cipolla è buona la si mangia volentieri già dei pregi ma anche dei difetti per esempio il 20 per cento di quelli che hanno il reflusso gastroesofageo non la tollerano la cipolla ma che la cipolla serva quando dice assorbe i microbi vuole dire fra virgolette è un antibiotico naturale no assolutamente mangiate la cipolla tranquillamente ma non come antibatterico grazie buonasera grazie a tutti